Da una settimana ha traslocato da Largo Mamiani alla nuova sede di Piazza del Popolo e da domani l'Ufficio Relazioni col Pubblico in Forma e Servizi di Pesaro si arricchirà anche dell'attivazione dello sportello Digital Care, un nuovo servizio di assistenza ai cittadini utile a barcamenarsi fra le ampliate esigenze di certificazioni digitali attraverso il supporto di 12 professionisti dedicati, uno sportello che entro l'estate sarà anche fra quelli abilitati al riconoscimento dell'identità necessaria per lo speed. Lo sportello Digital Care è un servizio per il cittadino, un aiuto concreto per la digitalizzazione, sappiamo benissimo che si spinge tantissimo per la transizione digitale, è fondamentale accompagnare il cittadino in tutto questo percorso. Questo sportello serve proprio per aiutare a portare avanti le varie istanze che un cittadino ha bisogno per quanto riguarda le certificazioni comunali e la cosa che siamo riusciti a inserire all'interno di questo progetto sono le persone che usufruiscono del reddito di cittadinanza, quindi è un progetto che coinvolge queste persone che sono senza lavoro e usufruiscono del reddito di cittadinanza, in questo modo oltre ad essere un servizio che aiuta il cittadino diventa un servizio sociale, infatti ho lavorato tantissimo anche con l'assessore Mengucci per portare avanti questo progetto e in questo modo avremo anche persone che vengono reintegrate nel mondo del lavoro. È sempre stato uno sportello disponibile al cittadino che diventa anche digitale, in questo modo diamo un aiuto concreto e di spiegazione e informazione al cittadino per quello che riguarda la digitalizzazione. All'interno di questo progetto abbiamo anche inserito la possibilità dei tutorial, cioè le persone che da casa hanno bisogno di fare una certificazione possono direttamente da casa vedere il video e informarsi per arrivare a fare la certificazione di cui ne hanno bisogno. Lo sportello Digital Care è stato presentato in conferenza stampa Oggi in Comune dal responsabile dell'ufficio relazioni col pubblico Claudio Pascucci alla presenza dell'assessore al bilancio Riccardo Pozzi che ha sottolineato come il trasferimento dell'ufficio valorizzando un immobile comunale abbia risposto anche all'operazione Fitti Zero che consentirà alle casse dell'amministrazione di risparmiare 50.000 euro annui. Il progetto Digital Care è stato anche applaudito dai consiglieri del Movimento 5 Stelle, Claudia Vanzolini, Lisetta Sperindei e Lorenzo Lugli che l'avevano caldeggiato con una mozione. Questa è un'iniziativa molto importante che noi abbiamo sostenuto sempre, anzi siamo stati promotori di questa cosa del potenziamento delle capacità informatiche dei cittadini. È un'iniziativa che riduce all'osso, riduce le distanze tra cittadini e amministrazione, potenzia da parte dei cittadini le loro capacità informatiche e quindi li rende sempre più capaci di sfruttare quelle iniziative, quelle potenzialità digitali che il Comune di Pesaro ha e in ultima istanza abbiamo trovato un modo anche di coinvolgere i percettori di reddito di cittadinanza che vengono coinvolti positivamente in questo lavoro che gli potrà dare anche possibilità di in futuro trovare un lavoro vero e proprio. Quindi noi di questa cosa siamo estremamente soddisfatti e ringraziamo la nostra amica Francesca Assessore, l'Assessore Pozzi che ha partecipato al lavoro e tutta la Giunta. Avanti così che va bene.